L'educazione visiva dovrebbe entrare di diritto nell'elenco delle materie che vengono insegnate a scuola? Oggi voglio leggervi un articolo trovato su internet in cui parla il controverso fotografo Oliviero Toscani. Educazione visiva fin dall'asilo. La proposta del fotografo Toscani? Insegnare ai bambini a leggere le immagini. Questo è il titolo. Nel contesto della celebrazione di Sky 20 anni, Oliviero Toscani durante il talk, le anime di Sky Art ha messo in evidenza l'importanza centrale delle immagini nella nostra società. E fin qui come dargli torto. Secondo Toscani, il 90% delle informazioni che assimiliamo proviene dalle immagini, contribuendo significativamente alla formazione delle nostre opinioni su personaggi ed eventi mondiali. Ora, sul 90% possiamo essere d'accordo o meno, però stiamo veramente grattando il fondo del barile. Se non è 90%, quant'è? 82? 91? Cioè, siamo lì. Toscani propone un'educazione visiva fin dall'asilo, che aiuti i più piccoli a comprendere l'origine e il significato delle immagini. Ragazzi, io non potrei essere più d'accordo di così, anche perché questo è il motivo per cui io ho aperto questo canale, ovvero contribuire, per quello che posso, a diffondere la cultura dell'immagine e far sì che ci siano più persone in giro consapevoli di quello che stanno vedendo, di quello che stanno fruendo e, perché no, anche di quello che stanno creando, visto che con questa trappola in mano ormai siamo tutti fotografi. E proseguo. Questo, a suo avviso, è fondamentale in un'era dove le immagini sono ubiquitarie e formano la nostra percezione del mondo. Il noto fotografo ha poi discusso l'attuale democratizzazione della fotografia, argomento che ho trattato anch'io in 200 video, andatevegli a ripescare. Oggi tutti hanno la capacità di fotografare, ma diventare fotografia è una scelta consapevole, esattamente quello che continuo a dire anch'io. Siamo capaci tutti di fare così col dito, sono veramente pochi quelli che sono capaci di pensare prima di farlo, e pensare se è il caso o se non è il caso, e pensare a che cosa stiamo trasmettendo quando e se decidiamo di farlo. La fotografia, secondo Toscani, è uno strumento potente per testimoniare il nostro tempo, una sorta di cronaca visiva che registra eventi ed emozioni. Toscani ha toccato il tema dell'arte, sottolineando come essa offre una possibilità di elevazione, anche quando ci confrontiamo con opere che non ci piacciono. L'arte stimola riflessione ed è un elemento cruciale per il progresso e il benessere della società. Allora, perché in titolo questo video Oliviero Toscani è impazzito, oppure essere impazzito a il resto del mondo? Semplicemente perché mi rendo conto che essendo lui un personaggio controverso, è assai probabile che in molti si stiano scagliando contro quello che ha detto semplicemente per fare notizia, semplicemente perché bisogna dargli contro. Lui a sua volta probabilmente avrà tirato fuori espressioni forti su questo tema, anche lui per fare notizia, perché comunque bisogna sempre essere sulla cresta dell'onda, i social ci hanno abituato a questo, i giornali sono andati dietro, giornali e telegiornali hanno abbracciato a pieno la filosofia sociale, quindi ormai si fanno titoli tanto per fare ascolti. Siccome però a noi qui non piace essere superficiali, noi adesso faremo una cosa che normalmente io non faccio. Vi lascio in card un video, non mio, vi lascio in card un video di Alessandro Muzi, spero di pronunciarlo correttamente. Tenete presente che questo ragazzo non è un picco pallino qualunque che fa video su YouTube, ma è niente meno che il campione mondiale di memoria, quindi non dico che abbia automaticamente ragione solamente in virtù del suo titolo, però due cose nella vita le avrà anche capite. E quindi quando io vedo un contenuto di questo ragazzo, che vi dico anche come si chiama, si intitola I gravi problemi della scuola italiana, io clicco questo contenuto per caso, mi è comparso nel feed, guardo il suo contenuto, sono d'accordo con ogni sillaba che esce dalla sua bocca e lui fondamentalmente nel video, adesso non gli voglio mettere in bocca parole non sue, però fa una critica del sistema scolastico, andatevelo a vedere, non fidatevi di quello che dico io sul suo video perché posso aver capito male, andatevi a vedere il suo, però fondamentalmente fa una critica del sistema scolastico dicendo cose che secondo me pensiamo tutti, ma anche se non abbiamo il coraggio di dircele. Sistema scolastico completamente inadeguato, sistema scolastico vecchio, praticamente abbiamo un sistema scolastico che è stato messo su nel 45 e non è più stato toccato perché abbiamo un sistema faticente, le scuole che cadono a pezzi, professori datati tanto quanto il sistema scolastico e non voglio offendere nessuno, tantomeno professori che mi stiano seguendo in questo momento, non sto parlando di voi professori che vi documentate, che guardate video e che cercate di capire le cose, sto parlando di tutti quei professori e se professori del primo caso mi stanno guardando sapranno che ce n'è tanti anche del secondo, sto parlando di tutti quei professori che alle domande, ai dubbi, alle incertezze dei propri allunni rispondono tu non devi pensare, devi soltanto impararti a memoria il libro, sto parlando di tutti quei professori che non fanno approfondimenti, sto pensando a tutti quei professori che non ci tengono veramente a spiegare le cose ma vogliono soltanto chiudere la giornata perché hanno di meglio da fare, escono a mezzogiorno, vanno a casa e si mettono in divano a guardare la televisione. Sto anche parlando di tutti quei politici, dirigenti scolastici, il sistema intero che ha potuto permettere che noi abbiamo un sistema scolastico che oggi insegna la storia fino agli anni 50, cioè i nostri allunni escono da scuola che a malapena sanno che cos'è la guerra fredda, di certo non conoscono il conflitto israelo-palestinese, non hanno la minima idea di che cosa sia l'11 settembre, a meno che non gliel'abbiano fatto vedere i genitori al telegiornale dicendogli una volta quando tu eri piccolo e tanto poi non ti ascoltano, quindi queste cose i nostri ragazzi non le sanno, escono da scuola che non le sanno, sanno a memoria le date delle guerre puniche e delle termopili ma non hanno la minima idea di che cosa stia succedendo nel mondo in cui vivono. Conoscono magari a memoria tutti i fiumi della Lombardia e ti sanno elencare le proprietà della barbabietola da zucchero ma non hanno la minima idea di come funzioni la legge elettorale in questo paese, ogni tanto la cambiano quindi è anche difficile star dietro, però capite cosa voglio dire? Abbiamo un sistema scolastico che secondo me è da riformare, punto. Non ci sono alternative, bisogna riformarlo perché è sotto gli occhi di tutti che non funziona più. A questo punto secondo me la proposta di Olivero Toscani di integrare una parte di lettura dell'immagine è assolutamente azzeccata. Lo dovrà fare per forza lui? No, non è detto, anzi può anche essere che lui non sia la persona giusta per farlo. Ciò non di meno secondo me va fatto perché con un sistema scolastico fatiscente come quello che abbiamo noi e parlo sia delle istituzioni che lo regolano, sia delle strutture che lo ospitano, sia di molte delle persone che ci lavorano, secondo me dare una rinfrescata è assolutamente doveroso e cominciare proprio dal programma è assolutamente prioritario. Noi non possiamo più permetterci di avere dei ragazzi che dedicano anni a imparare a memoria i laghi di ogni singola regione italiana. È un'informazione che per quanto possa essere incredibilmente interessante e stimolante per le giovani menti, lascia un po' il tempo che trova perché poi nella vita non ti serve sapere quanti laghi ci sono in campania, non ti serve, non so neanche se ce n'è veramente, magari ce n'è zero in campania, l'ho tirata a caso. Come vedete non me ne ricordo neanche una di quelle cose, quindi allenare la memoria, sì sì va bene, ma fammi allenare la memoria facendomi fare qualcosa che mi servirà anche nella vita o è così complicato? Detto questo amici fatemi sapere come sempre nei commenti che cosa ne pensate, siete favorevoli alla proposta di Toscani o siete contrari? E secondo voi lui è la persona giusta per portare avanti questo programma o ci vuole un personaggio un pochino più, lasciatemelo dire, morigerato? Vi ricordo come sempre che se apprezzate fotografia, videomaking e design il bottone iscriviti è qui sotto, a voi non costa niente, al canale date una grossa mano, non voglio dilungarmi ulteriormente e inutilmente perché a questo punto sono curioso di sapere che cosa ne pensate voi, vi lascio spazio nei commenti, è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video. Grazie per la visione! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!